buon 25 aprile a tutti e a tutte sono molto onorata che il teatro della fratellamento mi abbia chiesto di fare questo piccolo video questo contributo per festeggiare il 25 aprile purtroppo quest'anno con una modalità diversa non ci ritroveremo come ogni anno nelle piazze ma dovremo stare a casa e però questo non ci impedisce da una parte di ricordare e dall'altra di cogliere l'insegnamento che tante donne e tanti uomini che hanno lottato per la libertà per la libertà loro e per quella che oggi vediamo così condizionata da un nemico invisibile che è questo virus che si sta che si è diffuso nel nostro paese e in tanti paesi del mondo la società ricreativa l'affratellamento di ricorbuli più nota come teatro dell'affratellamento è stato il primo nucleo della camera dei lavoratori di Firenze alla fine dell'ottocento anche per questo sono orgogliosa insomma di fare di dare questo questo contributo ed è proprio dai lavoratori dalle lavoratrici che hanno con grande forza partecipato alla resistenza fin dagli scioperi del 43 per difendere per difenderci per liberarci dal nazifascismo e anche per avere un mondo diverso non era solo la libertà era un'idea di una società in cui ci fosse più giustizia in cui ci fossero più giudici più più diritti in cui ci fosse più eguaglianza beh oggi forse questo questa situazione così drammatica così difficile beh forse ci dovrebbe far riconsiderare quella straordinaria battaglia che è stata combattuta appunto per avere un mondo diverso oggi che questo mondo ha dimostrato quanto sia ingiusto quante disuguaglianze abbia prodotto ecco di nuovo quei valori quegli obiettivi che con grande sacrificio sacrificio di vite di donne e di uomini che domani ricorderemo ecco forse è un modo anche per ripartire ecco questo sì in un modo diverso perché ci siano più diritti per i lavoratori per le lavoratrici perché il lavoro non si è sfruttato perché si riconoscano i diritti delle donne perché insomma quello che è alla base della costituzione nata dalla resistenza sia davvero un obiettivo di tutte e di tutti a partire dal primo articolo la repubblica democratica è fondata sul lavoro ecco quel lavoro che oggi più di sempre ha dato una grande dimostrazione a questo paese quello di tante lavoratrici e lavoratori che si sono impegnati per svolgere davvero un lavoro difficilissimo quello di salvare le vite e anche di tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori che non vedevamo nemmeno che erano invisibili e che invece ci hanno comunque garantito e permesso in queste tante settimane di poter avere comunque le risposte ai bisogni essenziali ecco vorrei che ce ne ricordassimo anche dopo il 25 aprile perché ci sarà il primo maggio festa dei lavoratori e questo filo questo filo rosso che tiene insieme il 25 aprile il primo maggio è proprio il lavoro e allora un buon 25 aprile davvero a tutti a tutti e viva la resistenza e viva i partigiani e le partigiane